Max Verstappen ottiene la 41esima vittoria in carriera proprio come Ayrton Senna. Per lui è la quarta vittoria consecutiva in stagione, oltre 200 giri in testa in questo mondiale al netto dei pitstop. Centesima vittoria nella storia per la Red Bull, ottava vittoria consecutiva. Sono numeri che pian piano stanno crescendo e che presto demoliranno i record esistenti. Come avete ben capito il Gran Premio del Canada è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull, in una gara che rispetto alle altre non ha dominato, ma che comunque è riuscita a ottenere e a portare a casa una vittoria importante che, se ce ne fosse ancora bisogno, bissa il successo mondiale.